Video di medicina dall'Italia alla Cina A cura del dottor Lucio Sotte visita il sito internet www.luciosotte.it per informazioni su Agopuntura Medicina Cinese Medicina Integrata Questo video del corso sui fondamenti dell'agopuntura e medicina cinese è dedicato alle cosiddette Sette Passioni La medicina tradizionale cinese afferma che esistono cause esterne e cause interne di malattie Le cause esterne sono le energie cosmopatogene, le sieci e cioè il vento, il freddo, il calore, l'umidità che possono aggredire il nostro organismo Le cause interne sono le sette passioni che alterano il meccanismo dello psichismo il meccanismo dello Shen è quello che analizziamo in questo video Vediamo qui le energie psichiche in questa slide in alto lo Shen, al centro lo Yi e poi Zhu, lo Hun e il Po Queste entità psichiche modulano dal punto di vista mentale l'alternarsi dello Yin e dello Yang e in questa maniera danno equilibrio al nostro organismo dal punto di vista psichico, dal punto di vista mentale e questo equilibrio ovviamente ha il suo corrispettivo anche in termini somatici ma a proposito delle passioni nello Wang Di Neijing l'imperatore Wang Di interroga il medico Chibuo Wang Di lo vediamo qui in un'immagine a sinistra e Chibuo a destra e domanda Vorrei sapere da quali energie sono prodotte le 100 malattie Chibuo risponde Quando vi è collera il ci sale Quando vi è allegria il ci si rilascia Quando vi sono pensieri ossessivi e preoccupazioni il ci si annoda Quando vi è tristezza il ci si consuma Quando vi è paura il ci discende Dunque le cosiddette passioni hanno un ruolo nell'alterare la circolazione, la produzione, la distribuzione del ci Le passioni dunque sono in rapporto con i movimenti ma in rapporto anche con gli organi e i visceri e in rapporto dunque con la circolazione del ci Vediamo di esaminare con più precisione questo fenomeno E in primo luogo guardiamo gli ideogrammi Le cosiddette sette emozioni o sette passioni È interessante che vengono entrambi questi termini dal latino Emozioni da emovere dunque c'è l'idea del movimento Mentre nelle passioni c'è l'idea del patire Il contrario di un'azione, qualcosa che qualcun altro esercita per certi versi su di noi Nella terminologia cinese Nel termine ching, passioni C'è da una parte il radicale del cuore, quello che vedete a sinistra nell'ideogramma inferiore E dall'altra il radicale del verdeggiare Dunque è un verdeggiare del cuore, quello che è correlato con le passioni Proprio perché le passioni in quantità normali servono per attivare lo psichismo Ovviamente possono essere cause di malattie se eccessive Vediamo in primo luogo la collera La collera che è correlata al fegato Che è correlata al movimento legno L'ideogramma della collera è quello che vedete qui disegnato In basso il radicale del cuore Che sta ad indicare che si tratta di un aspetto del mentale, di un'emozione E il radicale in alto a sinistra È quello di una donna in schiavitù trascinata da una mano che sta a destra Dunque c'è l'idea proprio della schiavitù Di una donna ridotta in schiavitù che prova questo sentimento di collera La collera, come abbiamo detto, è correlata con il movimento legno E il movimento legno dal punto di vista psichico Trova il primo movens proprio nell'atterazione della attività Che normalmente il fegato dovrebbe svolgere Di mantenere il libero flusso del C Si possono verificare due evenienze La prima è che ci sia una stasi di C di fegato Che si accompagna a una sintomatologia depressiva Con tendenze paranoiche e facilità al pianto La seconda è una iperattività dello yang o del fuoco di fegato Che si accompagna a collera, insonnia, sonno disturbato da sogni e incubi, capogiri E eventualmente sensazione fastidiosa di vertigini Dunque c'è un problema yin oppure un problema yang Il problema yin si associa al risentimento, alla frustrazione, alla collera repressa L'altro invece alla collera che esplode È importante sottolineare un aspetto Della eziopatogenesi energetica Dei disturbi psichici di origine epatica Così come evidente che un blocco di C di fegato di natura organica Si può riflettere a livello psichico E determina la comparsa di uno dei quadri che ho citato Altrettanto frequentemente Capita che uno stato prolungato di eccessiva irritazione mentale Di stress dunque Possa ripercuotersi Organizzando e ostacolando La libera circolazione del C di fegato a livello dell'organo È interessante che c'è una conferma In alcuni modi di dire della lingua italiana Di tutto quello che abbiamo detto fino adesso Perché il soggetto collerico In italiano viene definito bilioso Così come Gli stati di irritazione mentale Le inquietudini I desideri non realizzati Fanno rodere il fegato Dunque la nostra lingua Correla il fegato allo stato di risentimento e collera Confermando nei fatti le intuizioni della medicina cinese È strano che la nostra medicina Non abbia mai collegato in maniera precisa La collera il risentimento La frustrazione con il fegato La medicina tradizionale cinese Fa in questo campo un ulteriore passo avanti Affermando che Come uno stato prolungato di risentimento Frustrazione e collera Può predisporre il fegato alla comparsa Di malattie organiche Attraverso ovviamente un lungo periodo Di depressione del C Così la comparsa di malattie epatiche Malattie organiche del fegato Può portare il paziente A una modificazione caratteriale In senso collerico Sempre Attraverso il meccanismo dell'ostruzione E della circolazione del C Vediamo ora L'allegria E la gioia Che sono le emozioni Correlate con il cuore Sono molto interessanti gli ideogrammi Vediamo prima quello dell'allegria Si e poi quello della gioia Le A sinistra l'allegria Un grande tamburo Il radicale al centro in alto Posto sopra un piede di legno Il radicale al centro in basso Incorniciato di campane Radicali in alto a destra e a sinistra Dunque la musica Dunque il movimento E di nuovo nella gioia Le Il concetto del ritmo e della musica Perché una mano Batte la pelle di un tamburo I radicali in alto E contemporaneamente La bocca Erompe con canti di gioia I radicali in basso L'allegria e la gioia Sono le caratteristiche Emozioni del cuore Che rilasciano il cuore Se l'energia del cuore è in equilibrio L'attività mentale è equilibrata Il pensiero è ben organizzato La sfera affettiva è bilanciata Le emozioni sono ben controllate Lo stato di coscienza è chiaro Il sonno è riposante Però qualche volta capita che Il cuore sia sottoposto A un'allegria e una gioia Che sono eccessive Diventano una sorta di Iper-eccitazione del mentale E allora si crea la patologia psichica Perché il cuore non è più in grado Di esercitare il suo pieno controllo Sul mentale A questo punto Compaiono gli stati veramente patologici La tristezza Pei La depressione Chou Sono invece caratteristiche Del movimento metallo Vediamo prima la tristezza Che è il radicale L'ideogramma di sinistra In entrambi Sia tristezza che depressione Troviamo in basso il radicale del cuore Sono dunque delle emozioni In quello a sinistra Sopra il cuore Troviamo Due persone che si danno la schiena Pei Pei in cinese significa anche nord Proprio perché Ciò che sta dietro di noi È il nord Dunque è il cuore che si rifiuta Le due persone che si danno la schiena E dall'altra parte invece In altro abbiamo l'autunno E cioè dei chicchi di grano Maturati al calore del fuoco E sotto il cuore La depressione L'autunno del cuore Il metallo rappresenta il passaggio Dallo yang a lo yin Dall'energia alla materia Il po rappresenta in ambito psichico L'aspetto più corporeo e fisico del mentale È lo spirito corporeo In opposizione allo spirito etereo Retto dal legno Il po rappresenta L'entrare e l'uscire Il movimento del jing La manifestazione del jing Nella sfera delle sensazioni E dei sentimenti Il po dà movimento spirituale al jing Abbiamo visto nel video precedente Che la mitologia cinese afferma Che esistono sette tipi di spirito corporeo Intimamente Indissolubilmente collegati al corpo Con il corpo Ritornano alla terra dopo la morte Perché il po è tradizionalmente connesso Con la vita individuale Al contrario dello hun Connesso con la vita spirituale Con quella di relazione Il po è intimamente collegato al corpo E assiste i primi Fisiologici processi di maturazione Sviluppo dell'infanzia È in relazione con i comportamenti istintivi Con l'attività nervosa autonoma Il po permette la capacità di percepire Di sentire E dunque di interiorizzare Le sensazioni Il dolore Il pianto Sono sotto il dominio del po In particolare Il po ha una relazione col pianto Questo è molto importante Sia in quanto attività di esteriorizzazione del dolore Sia come meccanismo respiratorio e automatico Connesso col polmone Che in quanto organo respiratorio Ne determina le modalità In questo senso Il singhiozzo del pianto È un metodo di dissoluzione E liberazione Dalla stasi Provocata dal dolore A livello respiratorio E quindi Paradossalmente È un metodo di autoguarigione Nella relazione che esiste Tra polmone e respiro Si esprime il pulsare Del po Così molti classici cinesi Sostengono che la meditazione Può essere regolata Mediante il respiro Che così È in grado di placare il po E mettere lo hun In grado di aprirsi E connettersi Con la sfera degli archetipi Il po Rappresenta dunque La capacità di interiorizzare Di avere una chiara E distinta sensazione Della propria attività mentale Ma un eccesso di questo movimento Verso l'interno Produce introversione Eccessiva interiorizzazione Incapacità di uscire da sé La tristezza La malinconia La malinconia La depressione Rappresentano le emozioni Più caratteristiche Dell'alterazione del po Che coinvolgono Il polmone E determinano anche La cifosi dorsale Correlata Alle gravi patologie Polmonari Come la tristezza Consuma il C di polmone E il polmone È maestro del C Altrettanto altrettanto le gravi patologie respiratorie si traducono in un atteggiamento psichico dominato da questa emozione che alla fine diventa un atteggiamento anche fisico, la cifosi dorsale. Vediamo ora i pensieri e le preoccupazioni che sono in relazione con il movimento terra. Anche in questo caso, in tutti e due gli ideogrammi, troviamo in basso l'ideogramma del cuore ad indicare che si tratta sempre di emozioni che colpiscono il mentale. A sinistra i pensieri, sì, il cuore e il cervello, dunque una elaborazione continua del cervello correlata al cuore. E a destra le preoccupazioni, il mantello della tigra, il radicale in alto, sotto l'ideogramma del pensiero. La tigra è capace di scattare e di restare immobile, la riflessione sul pensiero che porta alla preoccupazione. Ricordo che lo Yi, l'energia psichica della terra, si relaziona allo Shen, così come la terra si relaziona agli altri movimenti. Lo Yi rappresenta il pensiero, la riflessione, la capacità di organizzare i dati che possediamo e contemporaneamente la concentrazione, la memorizzazione. Se il C di Milza Pancreas è florido, siamo in grado di studiare, siamo in grado di concentrarci, siamo in grado di ricordare con facilità. L'alterazione energetica di Milza Pancreas può determinare uno stato di cattiva nutrizione cerebrale perché il C puro non sale e si manifesta con la distrazione, con l'impossibilità di concentrarsi, con l'impossibilità o il rallentamento nell'elaborazione del pensiero. Alla lunga può portare a disturbi psichici correlati all'impossibilità di uscire, di liberarsi dal ragionamento nel quale ci si imbatte. Le idee fisse, i pensieri ossessivi, sono l'aspetto mentale di alcune patologie di Milza Pancreas. Lo stress mentale relativo all'Oi indebolisce Milza Pancreas e dunque l'eccesso di studio, di concentrazione, di lavoro intellettuale, di memorizzazione indebolisce il C. e ricordiamo come la capacità di memorizzazione correlata allo studio sia governata proprio da Milza Pancreas, mentre la memoria a breve termine è governata dal rene e quella a lungo termine governata dal cuore. Da ultimo, le emozioni correlate al movimento acqua, al rene. Di nuovo, l'ideogramma del cuore, che vediamo a sinistra nell'ideogramma di paura in basso e a destra nell'ideogramma di spavento nel radicale di sinistra, che è un altro modo di scrivere il cuore. L'ideogramma di sinistra, il cuore, radicale in basso, e un aggetto percosso ripetutamente, radicale in alto, un tamburo che segnala un pericolo imminente. L'ideogramma di destra, il cuore, radicale a sinistra, e a destra un uccellino che tiene gli occhi sgranati, spalancati, i due radicali uguali in alto, per la paura di un pericolo avvertito come imminente. Ma perché paura e spavento sono correlate al rene? Perché, come vedremo, bloccano la volontà, che è l'aspetto mentale del rene. A ogni movimento è correlato un'energia psichica che si caratterizza per svolgere all'interno del mentale un ruolo analogo a quello che il rispettivo movimento svolge nell'ambito della trasformazione yin-yang. L'energia psichica correlata al rene deve dunque conformarsi come elemento di coesione, di strutturazione mentale, di massima concentrazione dal momento che proprio questi sono gli aspetti della fase yin-yang correlata al movimento acqua. La volontà è la forza psichica che permette attraverso l'applicazione, il lavoro, la dedizione di realizzare i nostri piani, di dare sviluppo ai nostri desideri, di concretizzare i nostri scopi. Tutto questo è in armonia con la natura del movimento che corrisponde alla materializzazione, alla concretizzazione. Senza la volontà, l'immaginazione, la pianificazione, l'ideazione, il pensiero, che sono tutti gli elementi mentali controllati dagli altri movimenti, non sono in grado di strutturare nessuna azione. La capacità di progettazione e pianificazione del legno, l'ideazione e l'intelligenza del fuoco, la riflessione e il pensiero della terra, la capacità di interiorizzare del metallo, si possono realizzare solo tramite il volere che trasforma ogni piano ideale in un gesto. La paura e l'angoscia, che sono i sentimenti che offendono il rene, agiscono proprio bloccando la volontà e impedendo dunque l'azione ad essa correlata. Contemporaneamente, gli atteggiamenti eccessivamente autoritari, tipici di molte patologie renali, altro non sono che una esasperazione della volontà e l'impulso di imporre con ogni mezzo la propria volontà agli altri. Questo sinteticamente è quello che si può dire a proposito dell'effetto delle emozioni sugli organi, sui visceri, sulla circolazione del Qi secondo i criteri dello psichismo interpretato in medicina tradizionale cinese. Video di medicina dall'Italia alla Cina A cura del dottor Lucio Sotte visita il sito internet www.luciosotte.it per informazioni su avopuntura medicina cinese, medicina integrata. www.luciosotte.it www.luciosotte.it